Ciao ragazzi, 16 luglio, è il giorno del mio compleanno. Come lo passa il compleanno, morte di prospero? Mentre di prospero passa il compleanno molto solitario, diciamo. Questo è il mio compleanno e diciamo che da sempre ho questo problema di essere tanto ecocentrico, ma allo stesso tempo quando ho tante attenzioni su di me soffro un po' la situazione, no? Infatti negli ultimi due o tre compleanni mi sono isolato completamente dopo aver organizzato una festa grandissima, però fa parte di me questo e mi piace comunque. Un'ape, un'ape. E quindi niente ragazzi, mi sale l'ansia, il mio compleanno mi sale molto l'ansia, perché non lo so, non c'è una motivazione valida, però mi piace isolarmi. Buongiorno nipottini e tanti auguri al nostro Matteo di prospero, il famoso tiktoker. anno di nascita, 2003, per cui 21 anni e speriamo che con l'ansia da compleanno vada un po' meglio. Ciao ciao e tanti auguri!